nema petrice bentornato in italia benvenuto a milano sei il primo acquisto di questa nuova power volley milano per la nuova stagione e con le tue prime sensazioni le tue prime emozioni per questo ritorno in italia per appunto il tuo arrivo a milano prima di tutto grazie sono molto contento di essere oggi qua a milano sono molto fiducioso carico per quello che ci aspetta molto contento di progetto che milano sta facendo e spero che insieme facciamo faremo le belle cose un giocatore che ha un curriculum importante vinto tanto nella tua carriera ecco che secondo te qual è l'apporto che puoi dare ad un gruppo che lo ricordiamo lo scorso anno è stato il secondo gruppo più giovane quindi quale quella quella dote in più che tu quella qualità in più che tu vuoi portare ai tuoi compagni sicuramente adesso sono diventato un giocatore un po esperto quindi c'è ho anche l'esperienza dietro di me con tutto altro che milano visto in me è voluto prendermi quindi io darò tutto quello che che posso dare sia ragazzi che la squadra quindi credo credo che faremo una cosa molto bella che milano è già su una bella strada che continuiamo così ritrovi qui a milano un tuo grande compagno non che amico matteo piano ecco se ti posso chiedere se vi siete scambiati già qualche pensiero qualche battuta e cosa cosa provi anche nel ritrovare davvero una persona per te importante nella tua vita c'è un bel legame che vi lega certo sì più più di compagno noi siamo veramente amici da tanto ci sentiamo spesso mi ha parlato molto bene infatti stato primo chi parlato di milano è una persona molto speciale molto solare vero capitano e quindi sono molto contento di rincontrare lui di nuovo e di giocare insieme negli ultimi due anni si è stato prima in turchia poi in russia torni nel campionato come è stato definito da dai tanti il più bello del mondo il più competitivo del mondo se dovessi chiedere che differenze ci sono e soprattutto che cosa manca eventualmente che cosa puoi portare dall'esperienza negli al degli altri campionati tu qui in italia assolutamente il campionato più bello quindi da portare qualcosa fuori c'è po difficile c'è poco è bello è il campionato più forte più seguito ovunque vai tutti seguono campionato italiano è sempre stato questo mi fa piacere fare parte di nuovo di campionato italiano a milano ci sarà finalmente l'ingresso al palalido ecco anche l'emozione di giocare in questo palazzetto che tutti aspettano da tanto tempo a nuovo per te ma anche per tutti gli altri è vero con tutte queste aspettative si alza non solo la voglia di ricominciare e giocare dentro palalido lo aspettiamo tutti vediamo secondo me sarà una bella emozione che noi dobbiamo regalare a gente a milano e sono sicuro che che lo faremo grazie 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 grazie